Ciao a tutti ragazzi, io sono Vertra e bentornati su Vertra la reazione Oggi siamo qui con un video un po' così, un po' pazzo, matto, furioso e andremo a vedere streamer che sono stati beccati a cittare E questo perché stavo giocando a CS e giocando a CS, non lo so, ho sempre il timore che siano tutti hacker quando mi uccidono Perché nessuno può essere più bravo di me, funziona così, giusto? Quindi, citerò oggi! Non me ne fotte un cazzo nell'intro però Oh, il bro, il bro gioca Gli chiedono di aprire il task manager al bro che sta giocando a Warzone Ok, vai, stupiscimi Ok, si sdraia e... Aim bot, aim bot mod, smooth aim, silent aim, trigger bot Minchia, tutto c'ha, tutto c'ha! Un genio! No vabbè, no vabbè! Che babbo! La chat, il mao idiot! Perché tutti quelli che giocano a Warzone cittano? Cos'è? Un gioco da fallire? Ma? Che cazzo è successo? Ha sparato per terra Non ho capito Ok, il gulag Ah, non può più muovere il pad Ok, e perché sta cittando? Non sto capendo Non sto capendo, cosa mi sto perdendo Cosa me l'ho perso, raga? In che senso? Non lo so, non mi sembrava citt... Mi sembrava morto Vabbè A lui invece non è fregato proprio niente Ah, lui sta cittando ma violentissimamente Ma cos'è? Non è neanche Warzone È Tarkov Ma bro, è nei muri Ma il bro vola Ma dai, ma cos'è questo? Mi sembra un po' esagerato Cioè ci sarà un limite, no? Oh, perché si stanno agitando così? Perché si agitano in questo modo? Ma perché? Ma che fallito No, nelle Bed Wars Allora, se cheat su Minecraft Devo dire che la tua vita è un punto di tristezza enorme Ma come fai a cittare su Minecraft di tutte le cose? Dai, cos'era? Ma... Che cosa brutta! Ma dai, è tristissimo, raga È la cosa più triste del mondo Ma come fai? Che cosa deprimente Cos'è? Fa finta di lanciarsi e poi vola in orizzontale? Madonna Oh, bannato Godone, godone che l'hanno bannato Enorme godone Poderoso Proprio il godone a due mani Lui è su Steam Non può cliccare Ma c'è 300 sub Ecco Questo qua comunque ha 300 sub Che non sono pochi Vuol dire che, cioè, si sbatte Perché cheatare? Cosa sta succedendo? Gli ha aperto i cheat a codo Aspetto il pc così Aspetto tutto Mi fa troppo ridere che il primo istinto sia stato andare a spegnere il computer No vabbè Rido Rido Wait Jay No, ci credo No, incredibile Ho i cheat Lui sta giocando a Tarkov con i cheat ovviamente Anche Tarkov è pieno di cheater nodo Ma vagamente Cioè mi sembra abbastanza esagerato anche Ma qual è il gusto di giocare così? Cioè Cioè è divertente giocare così Nel senso Tanto vale non giocare Vai a giocare con i bot Non lo so What about this is fun for you? Ah, ecco Gli hanno chiesto cosa c'è di divertente per te E non ha saputo manco rispondere, poraccio Il bro Il bro è in live E ha tutto acceso Neanche ci prova a nasconderlo Cioè Oh, se ne è accorto Se ne è accorto? No Che stupido Cos'è? Ma lo toglie? Ma lo toglie Non ci credo No, ma non si vede Tranquillo Nessuno crederà che Tranquillo Nessuno se ne è accorto bro Neanche un po' Ma zero E poi mi chiedo Perché? Cioè Boh Non lo so Controlla prima di andare in live magari Così è Per dire Ok Lui gioca a Warzone Ok E Col pad Benissimo Ah, è tutto acceso Ha tutto acceso Si vede Si vede ogni cristiano Sulla mappa Bravissimo Incredibile Micchia Come fa a essere così bravo raga Cioè È come se È come se direttamente fosse Incollato appena mira Madonna Non riesci neanche a ucciderli Comunque Che tristezza Che tristezza No Ha detto la parola sbagliata Madonna Che fallitone Che fallitone L'unica cosa positiva Che poi vengono bannati violentamente O almeno lo spero Però minchia che fallito Mamma mia Ok Lui sta giocando a Rust Minchia anche Rust Con i cheat Ma perché? Ma cosa vuol dire? Ma perché? Cioè Wow È Rust Che cazzo te ne frega di cheat Madonna Ah può pure volare Vabbè incredibile Può pure correre sui muri il bro Wow Sei fortissimo Sei fortissimo bro Oh I'm so sorry dude I'm so sorry Ah allora si scusa anche Si scusa anche Scusa Oh my god Si scusa e gli ruba la roba però Giusto Un altro che gioca a Warzone No vabbè ma è incredibile Gli streamer di Warzone Sono sudatissimi raga Ok Si guarda intorno Ok Apre Apre Non so perché Le impostazioni E poi E poi cosa fai? Vai Cosa fai? Ok Ma è un simulatore di guida o è Warzone? Ok Ha fatto una roba strana Vabbè Non era così strano Dai Dai Questo non era così incredibile Secondo me Ne mettono un po' Che boh sono sani Ok Pfff Bello Bello il I pallini Rosa Micia comunque Aim o non aim È comunque scarso Cioè wall Ma è l'aim Bravissimo Mamma mia Sei fortissimo Come fai? È incredibile raga È bravissimo Li vede tutti Dimmi che nessuno cita Among Us Dimmi che nessuno Non ci credo Raga Citta su Among Us Ma è la cosa più triste del mondo Ma poi può ventare No vabbè Vi giuro Questo è un vero momento Axel Scusa Axel Ti voglio bene Ma non è possibile Come fai a cittare su Among Us Cioè Già stream sniperare è triste Ma cittare proprio su Among Us È la cosa più deprimente del mondo Va bene E' un altro che gioca a Minecraft con i cheat Dio santo Cosa sta facendo? Cosa sta succedendo? Perché c'ha 12 anni Questo qua è tutto storto Faccio anche io i video così da oggi Ok non ho capito nulla ma mi fido Bello Molto bello Oh my god Wait You guys already see the file? Oh Si è dimenticato Il file aperto Si è dimenticato i cheat nel desktop Chaddissimo E a livello di quando facevo i file per Leo e Tota che si chiamavano tutti con dei nomi molto molto bannabili e poi se li dimenticavano sul desktop Ah ok mi ha fatto ridere mi ha fatto molto ridere mi ha fatto ridere bravo ho riso È stato carino è stato carino è stato carino è stato carino Invece qui c'è il bro che attiva l'aim Ah cioè anche lui non frega niente Enable glow No non l'ha messo in realtà Ah Ha 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 potrei farlo ma non lo faccio Gente che citta su Destiny No Oh oh cos'è quel coso Cos'è quel coso che va in giro con voi Ah 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 Cosa sono questi strani segnalini Signore Oh my god no way Che figura di merda Ma come fai poi Oh no what the fuck man Non ci credo Oh my god Come fai a tornare a streamare Come fai a tornare a streamare poi Oddio un altro che citta su Minecraft È partner quindi Cioè non è il primo sfigato Ah 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 Vabbè ma sta trollando Your game bot has been updated E compaiono gli occhi dell'end No way Leggitra Vabbè dai sta città Cioè per il meme Anche perché ha 49 minuti di speedrun Fa troppo ridere Dai Bello Minchia c'è anche le sponsor google pay Ah no questo è per farsi donare Sponsor goal Madonna che falliti Minchia però c'è gente che dona Top donatore 800 dollari Mica 2 euro Che falliti Godo Godo Minchia ora quanto donano A sta fallita Spero l'abbiamo bannata di brutto Scusate io spero che i cheater Vengano sempre bannati Olè Un'altra persona che Su code Cheitta Con la faccia più concentrata del mondo Perché raga È difficile vincere Se hai cheat Ve lo dico Deve concentrarsi un botto Zero brain activity in questo momento E niente Ragazzi Per oggi è tutto Se volete farò magari qualche liveetta serale Qui sul canale Bertra Reaction di Counter Strike Perché mi piace un sacco ultimamente E vorrei portarvelo E così magari apriamo qualche cassa E posso provare i miei cheat Bella Ciao Ciao Ciao